La conduttrice romana ha fatto il punto sul reality show, parlando del suo rapporto con gli opinionisti del programma. Ilari Blasi a ruota libera. L'isola dei famosi sta volgendo al termine, ed è tempo di bilanci. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice romana ha fatto il punto sull'esperienza di quest'anno, parlando del rapporto con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, dell'intesa con l'amico Alvin, e di alcuni episodi particolari accaduti nel reality. Inoltre ha risposto alla domanda relativa al futuro della trasmissione, voci dicono che Mediaset chiuderà lo show il prossimo anno. Pronti via, l'ex moglie di Totti ha spiegato che il primo anno che ha timonato l'isola non è stato facile in quanto la sentiva come un programma del tutto suo. Era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più, e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Quindi è entrata più nel dettaglio. Raccontando in che modo adesso sente lo show cucito su di lei. Ho notato che rispetto al primo anno c'è una differenza. Quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la TV. Adesso mi ricordo che ha votato chi. Anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni. Eh, ma fa parte della vita. Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa.